Benvenuti nel luogo della buona economia. Ma tu sai cos'è la buona economia? Siediti e scoprilo. Un'economia fatta di luoghi, persone, sostegno, fiducia e cooperazione. Da noi c'è una riconversione di vecchi strumenti di lavoro, una scelta consapevole di agricoltura sostenibile a chilometro zero, un supporto reciproco tra i produttori. Ogni tuo comportamento può essere buona economia. Quale sarà il tuo contributo? Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS